Caffè letterari all'auditorium al Centro Congressi dell'Unione Industriale di Torino, ieri il primo incontro alle 15 con Margherita Ogero, scrittrice torinese. Ne parliamo allora oggi con Giancarlo Bonzo, amministratore delegato del Centro Congressi. Buongiorno, grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, che cosa sono tanto per cominciare i caffè letterari? Sono momenti di incontro e di confronto con i più importanti scrittori italiani e anche internazionali. Ecco, voi siete ambiziosi perché vi proponete, avete detto, come punto di riferimento un po' per la cultura torinese. Sì, diciamo che il Centro Congressi dell'Unione Industriale oramai è diventato nel tempo un polo di attrazione culturale riconosciuto da più parti e quindi attraverso queste conferenze cerchiamo di avvicinare il pubblico proprio alla lettura, alla cultura con l'acce maiuscola. Ecco, sono caffè letterari ma soltanto letteratura alta oppure ci sono altri argomenti? Si spazia nella scienza, la medicina? Si spazia allora i caffè letterari e sono presentazioni di libri. Noi abbiamo anche altri cicli culturali che sono i martedì sera, gli appuntamenti del mercoledì mattina, le eccellenze made in Italy. Quindi spaziamo a 360 gradi. Nella fattispecie i caffè letterari invece presentano, ieri appunto ha citato che è stato inaugurato con la Margherita Oggiero, lei ieri ha riportato alla luce il suo, là il motivo iniziale, quindi il thriller. Prossimamente noi avremo una biografia di Navone, avremo un tema più... Esattamente nel primo ciclo. Allora, voi siete presenti anche sul web e su internet, avete rinnovato il portale? Esattamente, abbiamo voluto rinnovare proprio perché in questo momento è necessario avvicinare maggiormente il pubblico, differenziarci, quindi cercare di avvicinare anche un pubblico più giovane, quindi siamo presenti anche attraverso i social, che oggi come oggi è quanto mai fondamentale. Le faccio un'ultima domanda ai rapporti col salone del libro, ci sarete? Speriamo di sì perché già nelle ultime due edizioni facevamo parte di quelle realtà che erano contraddistinte con il salone off. E come vi presenterete alla Kermesse? Vorremmo di nuovo presentarci con iniziative e presentazioni di libri innovativi, quindi attraverso le nostre sale siamo a disposizione per coinvolgere il pubblico e coinvolgere ovviamente gli autori. Grazie Giancarlo Bonzo, grazie molte per essere stato con noi, adesso parliamo di fiction e di rap.